Monaco 2001, la McLaren di Coulthard è in pole position. Giro di ricognizione, l'auto si spegne e Coulthard viene nel processo in ultima filata. Ma per lo scozzese è solo un aperitivo di ciò che lo aspetta, Enrique Bernoldi. Schumacher prende l'argo, Coulthard comincia una grande rimonta, finché non si trova di fronte a uno scoglio, la Aros di Enrique Bernoldi. E così, tra le risate dei commentatori tv, questo brasiliano tiene dietro David Coulthard per 35 giorni, malgrado Coulthard abbia una macchina che gira molto più velocemente. Sentendosi dare delanti sportivo e dell'idiota da Ron Dennis e da Coulthard, il buon Enrique replicò così. David Coulthard dopo tutti questi anni se lo sogna ancora. Grazie di aver guardato il video e se vi va iscrivetevi, è gratis e non fa male alla salute.